Dall'anno scorso il premio Quality Award si è aperto a 360 gradi a tutte le tipologie merceologiche e a tutti i mercati del largo consumo, quindi anche alla cosmesi, alla detergenza a casa. Per cui quest'anno, e mai come quest'anno in termini di numerica, tutti i prodotti premiati del pet, pet food, accessori, lettiere per gatto, rientrano di diritto sotto il cappello della qualità Quality Award. Sono Marco Arosio, editore e responsabile della rivista Pet B2B, una rivista che da sei anni si occupa nello specifico di informare la filiera e punti vendita su questo importante mercato. Dall'inizio abbiamo stretto un rapporto di media partnership con Quality Award che abbiamo seguito proprio nell'attenzione a questo mondo. Da ormai qualche anno, essendo media partner di Quality Award, abbiamo dedicato degli spazi sulla nostra rivista, sia a spazi tabellari che a fondi redazionali, dove i nostri lettori e la filiera in generale ha intuito la bontà di questo progetto e quindi la professionalità di questo progetto. Chiaramente non soltanto la parte cartacea, bensì tutto il mondo digitale e quindi la newsletter, la nostra pagina LinkedIn e Facebook, sono state interessate a veicolare i contenuti appunto del Quality Award. Grazie a tutti. Grazie a tutti.